Musica Ciao, sono Maurizio dell'Accademia Blue Diving Center di Livorno Il nostro diving si trova all'interno di una struttura balneare quindi comodo anche per chi non fa immersione quindi per le famiglie che vengono e hanno l'accompagnatore per fare immersione può passare una piacevole giornata al mare I nostri punti di forza sono l'avere due imbarcazioni coperte costruite appositamente per fare immersioni che ci permettono di immergersi tutto l'anno in piena comodità Altro punto di forza per le scuole è la possibilità di fare immersioni da terra quindi per chi deve fare dei fine corso può così abbattere un po' i costi in quanto può fare le prime due acque libere da terra per poi fare le ultime due acque libere con l'imbarcazione Le nostre immersioni sono particolari perché la nostra zona è peculiare per quanto riguarda il corallo rosso ne abbiamo veramente tanto già da partire dai 14 metri di profondità possiamo trovare un sacco di corallo rosso Gorgone rosse, ci sono i punti di immersione che abbiamo molte gorgone rosse dove possiamo trovare epizzoati degli astro spartus stella gorgone per arrivare al diving venendo dal nord usciti dall'autostrada si prosegue per la tangenziale superstrada e si esce a Livorno Sud Livorno Sud dopo che si segue le indicazioni lungomare dopodiché noi siamo proprio vicini all'Accademia Navale adesso che sapete dove siamo vi aspettiamo così vi portiamo a vedere i nostri bellissimi fondali coperti di corallo rosso